Numeri esaltanti per la mozione Bersani a Catania, che in città ha ottenuto il 51% dei voti e in provincia ha superato il 60%. Anche il candidato alla segreteria regionale del PD, Mattarella, sostenuto dalle liste capeggiate da Concetta Raia, Franco Pignataro, Luca Spataro e Remo Palermo, è stato il più votato a Catania, con il 51,8% in città e quasi il 60% nel resto dei comuni. Ma al ballottaggio, e ormai ufficiale, vanno Giuseppe Lupo, collegato alla mozione Franceschini, che ha ottenuto 73 delegati, e Beppe Lumia, che ne ha 55. I restanti 52 sono appunto i delegati delle liste Mattarella. Soddisfatto comunque il coordinatore regionale della mozione Bersani. Ora si apre una nuova fase, crediamo che sia opportuno riunirsi con Mattarella, discutere assieme a lui il da farsi e poi andare a un'assemblea nella quale democraticamente decideremo chi sarà il nostro segretario regionale. Noi non vogliamo fare una scelta sulla persona, ma vogliamo proseguire su quelle questioni politiche che abbiamo noi posto all'attenzione dei nostri elettori e dei nostri militanti. Cioè un partito democratico autonomo e autorevole. Autonomo da chi che sia, in particolare dalle altre forze politiche, e qualche volta abbiamo avuto la sensazione che così non sia stato nel passato. Autorevole perché è in grado di dire la propria sia a livello locale, ma anche nel rapporto col partito nazionale, in uno scambio che è uno scambio positivo tra il centro e la periferia, che deve essere uno dei punti di forza del nuovo partito democratico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.